ecco sì 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 ecco il 2 febbraio la neve a casa grande il nostro pupazzo di neve già rovinato da qualche cretino che gli ha messo il posto del naso il pisello il nostro balcone gli uccellini che cercano di venire a prendere la pappa neve 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 perdita d'occhio stimati ieri 35 centimetri stamattina almeno almeno come minimo alle sette e mezzo di mattina 5 cm in più quindi saremo già a 40 e neve a go go con me da fiocconi in questo momento nega insomma da quelli piccoli piccoli che erano e con una spettatrice alla finestra felice per la neve e scuole chiuse ieri oggi domani chissà se anche sabato si vedrà ciao neve a dopo